Ciao amici, come va? Abbiamo una domanda molto interessante per tutti quanti voi, ovvero come mai i fabbri spesso non usano il carter sulla mola? Come mai? È presto detto, perché i fabbri non che non vogliono usare il carter, anzi bisogna usare il carter, bisogna mettere sempre il carter sulla molettina, perché è pericoloso, guai a chi non lo fa, però lo si fa, perché quando arriviamo a molare dei pertugi più reconditi, come gli angoli delle inferiate, tipo questa qui che ho dietro, vedete? Tipo gli angoli, molto spesso non ci si entra, vedete? Non ci si entra, perché il carter da noi, e allora si leva questo carter per lavorare meglio, anche perché se no il disco è un si finirebbe, si butterebbero via a metà, capito? Quindi sicuramente tanti colleghi mi diranno bravo, ho tu ragione, anche noi non si usa il carter, e tanti colleghi mi tireranno le orecchie e diranno cattivo, bisogna mettere il carter e bla 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 bla. Ciao bellini, vi voglio bene, vi ringrazio e vi saluto con la tromba e con l'imbuto!